Franco Di Mare ha condiviso una verità amara. Il suo destino è segnato da un tumore implacabile, una sentenza che gli lascia poco spazio alla vita. Il giornalista e conduttore ha rivelato di essere affetto da mesotelioma, un male che ha radici nelle sue esperienze come inviato di guerra per la RAI, in particolare respirando l'amianto durante le missioni. Questo nemico invisibile ha minato la sua salute tre anni fa, ma ciò che ha reso il suo viaggio ancora più doloroso è stato il dover comunicare ai suoi cari che non c'è cura per questa malattia. In un'intervista con Fabio Fazio a che tempo che fa, sul 9, Di Mare ha parlato della sua battaglia contro la malattia. Con una voce debilitata, ha spiegato come un tubo di ossigeno gli consenta di respirare, mentre affronta il mesotelioma, un male legato all'amianto. Nonostante la sua situazione senza speranza, ha dichiarato la sua determinazione a non arrendersi, a continuare a lottare nonostante le avversità. Dopo la sua diagnosi implacabile, ha deciso di condividere la sua storia e il suo dolore attraverso un libro intitolato Le parole per dirlo, un'opera che va oltre il suo testamento personale, ma offre anche una riflessione sulle esperienze di guerra e sulla lotta contro la malattia. Pur riconoscendo la bellezza della vita che ha vissuto, non nasconde la sua delusione per il comportamento della RAI e dei suoi dirigenti, che sembrano essersi dileguati nel momento del bisogno. La malattia ha sconvolto la sua vita quotidiana, trasformando anche i gesti più semplici come fare la spesa in una sfida. Ma nonostante tutto, Di Mare non ha rimpianti. Ha vissuto intensamente, ha realizzato i suoi sogni, e ora affronta la sua ultima battaglia con coraggio e dignità, consapevole del valore prezioso del tempo che gli resta. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.